Anti... Winkoing... Anti-winkoing... Anti-bugs... Bugs? Bur... Burro... Bugs... Che... Coglione... Bugs... Burro... 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 Benvenuti in questa nuova puntata di Gallino Makeup! Allora, come sta andando? Avete provato? Avete visto cosa ho fatto nella puntata precedente? Avete provato quella robina lì nuova del filler alla labbra? L'avete provata? No, non l'avete provata! Avete sentito cadere un oggetto? Non è... Non c'è nessun problema! Lo deve fare! Bene! Oggi andremo a testare due creme! Una contorno occhi e una per contorno... Tutti i contorni del resto degli occhi! Cioè qui... Si fa il panda con la crema... Questa qui... Per il contorno occhi... Questa qui... E poi si fa il panda bello bianco... Dopo si fa con quest'altra... Si mette... Di di là... In tutto il resto del contorno occhi... Fino a dove ci sarebbero capelli... Ecco tutto... Così... Perché? Ma perché fa questa... Perché c'è questa playlist ora? Perché passato i 30 anni uomini... Abbiamo bisogno di... Tenersi un pochino a bada... Un pochino meglio... Un pochino più in considerazione... Perché il bello dell'età ormai va svanendo... Va sfiorendo... E quindi bisogna cercare di resistere... Vincere... E vinceremo... Come disse quello lì che poi non ha vinto... Ma andiamo avanti con ciò che è... Questa fantastica... Trasmissione e puntata... Proveremo questa cremina qui... Che è una... Si c'è... Una crema... I know man... Di marca bestia... Che me l'ha regalato... Un amico eccezionale... Mi ha regalato questa... I know man... Jeans a Torino... Jeans a Torino... E che le... Le jeans? Va bene... Io le lo so... Prendo atto di questa cosa importante... Total... Revitalizer... Eie... Che vorrebbe dire... Crema... Revitalizzante... Contorno occhi... Eie... Occhi... Lifting... Creme... E' una crema... E' una crema... Lifting anti... Revitalizzant... La scena anche in francese... Capito? Via gallino... Apri sta cazzo di crema... E fa il lavoro... Perché qui tra l'altro... Una cosa bella è... Nessuno si fa... Si su... Ma quindi... Apriamo questa crema qui... Accidenti... Che lusso... Che sciccheria di crema... Guardate la bellezza di questa crema... Guardate la bellezza di questa crema... Ora vuoi provarla... C'ho... Oddio... Che si garibarda tutto... C'ho anche il mio specchietto bellino... Guardate... Che specchietto fatto al cuore... Scicchissimo... C'è questa crema qui... Che c'è... Che c'è da tirare questa levetta... La non ne scoppierà mica... Che le va questa levetta qui... C'è da levare questa levetta... Che le ha appiccicata... Io l'hai... Che gli avevano paura... Che gliene rubassi... Meno male c'ho gli unghioli io... Perché se no... Se era uno normale... E ci... La gag... Vedi... Ho fatto la gag... Va bene... Allora... C'è da legge nulla... No... Ci sei... Va bene... Via... Giù... Dai... Oh cattino... Madonna... Piaccicone... Tu sei altro... Accidenti... L'hava messa un gocciolino... Perché la vostra... Quanto in manzo buono... Questa la vostra... L'hava messa un gocciolino sui poppatello... Così... Questa la bellina... Oh mamma ragazzi... Guardate... E la mamma è tutta un giorno... Aspetta... Mi devo guardare... La mamma è tutta un giorno... Tutta un giorno... Così... Eh... Bisogna battergliene... Ha visto mamma si fa... Bisogna... Annoccargliene... Capito... Toc toc... Tutta un giorno... Così... Tutti... 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 Vado a me migliore... Ragazzi... Pompettando... A destra... E gli se ne rivolga... Anche qui... Pochinina... Per l'amor di Dio... Poca... Perché la vostra... Una fiammata... Costa quanto... La droga... Quindi... Mi raccomando... Poi... Perché... Sono fabbro... Però... Vedi... Bello... Sì... Tutto... A modino... Intanto... Mi fanno... Tutto... Così... Benino... Vedi... Guarda... Bello... Madonna... Come si sta bene... Sentiti il rumore... Il rumore è quello lì... E comunque... Mi sono andato a tenere... Gli occhi uguale... Ora non ci vedo più... Mi si è impappato tutti gli occhi... Non ci si vede più nulla... L'è di molto oleosa... Ma il crema... Sembra... Il castro... L'ITPS... Per le motoseghe... Uguale... Però... Le è chicchissima... Guardate... Che astuccio... Bellissimo... Fantastico... È fenomenale... Ve lo... Mette tra modo... Ve lo fo' vedere io... Come si fa... Guardate... Di già... Donne... Sono di già migliorato... Adesso andiamo ad aprire... Questa qui... Che è... Non ci vedo più... Una secca... Perché la regia... Giustamente dice... Tutterà si è piantata... Dentro l'occhio... Questa è la Rila... Stila... Laboratori Milano... Questa crema è una crema nutriente... Micro... Antirughe... E... Restitutiva... Capito... Se vuoi avere dei debiti... Lei... Vi restituisce... Antirughe... E... Restitutiva... Con un acido... Ialuronico... Complesso... Vitaminico... E... Microcaricomplex... Microcaricomplex... Chi di noi... Non sa... Cosa sono le microcaricom... Dei... 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 Si dice... Vi capito... Figlio... Mi era cascato le forbici... Figlio le forbici... Si apre questa... Si apre a modo... Non da certroni... Perché qui... Se no... Tra questa e questa... E' partì una milionana... Capito... E quindi... Facciamo a modo... Si apre... Ah... Che bello... Importantissimo... Sono... Tutti e due... Ambedue... Tutti e due... Prodotti... Specifici... Per la pelle... Dell'uomo... Per la cura... Dell'uomo... Quindi questa... Le roba... Da omo... Ok... Anche l'uomo... Volesse omo... Ora... Ci si idea... Questa crema qui... Rilastil... Che... Che... Mi si è impiantata... Un pochino... Ora... Mi ne schizzo... Come fosse... Maionese... Di sicuro... Bene... Questa... Le... Si fora... Come la maionese... Appunto... Come paragone... Io ho la maionese... Ecco... Ora... Lo levo... E quella che esce... Me la pianto... Me la... Mi viso... Si... 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 Si prende... Si ne mette... Un pochino... Qui... Pepe ne può vedere... Le bote... Ah no... La c'è... Uccidenti... Badavello... Badavellina... Si fa tutto così... Con le manine... Con le manine... Ta 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 ta... E poi... La si girà tutta addosso... Di viso... Così... Badavello... Fenomenale... Oh... Bene... Me l'è fresca... Mi raccomando... Non toccate il contorno occhi... Di prima... Se no... Se no... Così hai gruggi... Abbiamo pazienza... Oh... Così... Un lavorino fenomenale... Per... 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 Hai collo... Se bucci avrai le grinze di Gianni il collo... E li gliene vanno date... Capito? Si... Ragazzi... Io... Ora... Lo sai ora... Come le mi vengano addosso... Ste donne... Madonna... Lo sai che morsi... Eh... Nelle vene varitose... Vedi quello... Ma... Guarda là ragazzi... Ma non sono di già migliorato... Ma poi un odore di uomo maschio vero... Di quelli li... Arroganza... Ma... Badate... Quindi ora... C'è la prova di nove... Ora chiamo la dilettina... Voglio vedere se a questo giro la se ne accolge... Sì... Però sono buono... Sono migliorato tanto... Dicare... Sono migliorato... Eh... Vediamo... Diletto amore tesoro cara... Arrivo... Accidenti... E' cari qui? Sì... Oh... Dimi... Bellina... Ci ho tanta pazienza... Fammi posto... Vieni cara... Dimmi... Noti niente? Ti sei lavato? Sì... Mi sono anche lavato... Ma noti niente altro? Tu... Non... Tu vedi nulla... Tu c'hai doppiamento... Sei ingrassato? Madonna ragazzi... Ma... Ma miglioramenti... Non vedi miglioramenti di nessun tipo... Un po' di... Non sono migliorato... Ma dai bellezza... Non tu non vedi nulla... Ma dai pellicina morbida... E' sempre vecchio... E' vero... Bene... Vai... Tu puoi andare... Allora... Ragazzi... Ciao... Ciao... I risultati... Come avete visto... Sono ottimi... Fenomenali... Io vi consiglio... Di nuovo... Vi ripeto... Queste due creme... Fantastiche... Fenomenali... Bellissime... Questa è... La Rilastil... E questo... C... Con torno occhi... Tutte due creme... Da mastio... Da uomo... Per l'uomo che non deve chiedere mai... Eccole qui... Omini... Datevi ste creme... Vu migliorate... Vu diventare belli come me... Quindi... Si è messi di nulla... Per l'ingresso... Vi salutavo da Trombe e Colibuto... Arrivederci...